Ecco, vediamo cos'è una photo story. Partiamo dalla copertina. Vabbè, la copertina, ok. Poi cosa abbiamo? Abbiamo la presentazione dell'autore, d'accordo. Poi, come leggere questi ebook? Vabbè, qui avete due indicazioni su come leggerlo, ma penso che sappiate quali sono gli ebook. Poi abbiamo un titolo, vedete, sfondo nero. Allora, intanto perché sfondo nero? Perché molto spesso nella fotografia lo sfondo nero fa risaltare di più l'immagine fotografica. Però anche il bianco può andare bene, dipende un po' anche dal messaggio che volete trasmettere. Qui abbiamo una cartina con l'illustrazione, una spiegazione sui protagonisti di questa storia che riguarda il labrador. È una storia centrata su due cani labrador. Quindi abbiamo un'introduzione con un'immagine di sfondo e poi inizia proprio la storia. Ciao, questa sono io, sono una femmina della razza dei labrador. Qui, se passate con il mouse, ecco che cancellando con il mouse, vabbè, adesso qui viene fuori il labrador, è un giochetto, niente di che. Adesso noi non facciamo questi giochetti, ma quello che ci interessa è vedere come è organizzata la photo story. Quindi qui ancora bisogna passare col dito, perché l'ideale è per l'iPad, con il dito, voi passate con il dito e togliete la nebbia che impedisce di vedere l'immagine. Poi qui avete un'immagine fotografica con la didascalia. In questo caso la didascalia che cos'è? È il racconto di uno di questi due cani. Queste sono fotografie realizzate casualmente, cioè un giorno ero da qualche parte, in questo caso ero a Pantelleria, e verso sera sono arrivati questi due cani di una padrona, di una proprietaria, ovviamente, che hanno iniziato a giocare. Non c'era nessuno, io avevo la mia attrezzatura fotografica, un grosso teleobiettivo da 800 mm, che mi ha consentito di fotografarli a una certa distanza senza disturbarli, cioè senza che venissero da me a giocare. E poi sulla base di queste foto, ma dopo, ho creato la storia. Quindi è interessante, potete leggere, la vede. Perciò a volte è meglio prendere due direzioni opposte. Questa è una foto casuale, molto bella perché un animale va in una direzione, l'altro labrador nell'altra, in quella opposta. Quindi ho immaginato un conflitto tra i due, che si basa su alcune caratteristiche. Vedete come sono disposte? Poi avete anche la possibilità di scorrere, per esempio, una galleria di immagini, in questo caso. Poi ogni immagine ha la sua didascalia, che non è altro che il racconto, come se questo racconto fosse portato avanti da una delle due. Ecco. Avete anche questa disposizione di immagini. Quindi una fotostory si basa naturalmente sulla fotografia, sulla fotografia, ed è interessante poter raccogliere delle fotografie, raccogliere delle fotografie casuali. Quindi cominciate voi, fate una gita, andate da qualche parte, raccogliete proprio a caso delle fotografie solo ed esclusivamente basandovi su due criteri. Il primo, l'interesse che suscita una determinata cosa. Non lo so, siamo in autunno, fotografate il riccio di una castagna, più ricci di castagna, vi interessa questo, fotografatevi. Secondo, la bellezza di quello che fotografate, un dettaglio particolare, un'inquadratura interessante, delle luci. Ecco, concentratevi solo su questo, non sul fatto di documentare qualche cosa. Toglietevi dalla testa l'idea di dover raccontare una storia oppure di documentare un'attività, perché non arriverete a capo di nulla se farete così. Dovete proprio lasciarvi andare al vostro istinto, l'istinto su questi due aspetti. Cioè, cosa vi colpisce, cosa vi attira, vi attira, tac, fotografatelo. E poi la bellezza di quello che osservate. E dopo radunate tutto e poi, vabbè, io insegno tecniche di racconto, ma non è che posso insegnervela adesso. Adesso vi insegno la struttura così di composizione, no? E poi cercate di tirare fuori una storia. Se voi leggete, questo lo riporto io, avete sicuramente delle basi. Vedete, qui inizia il litigio. Il litigio. Quello che vi posso dire è che dovete costruire un conflitto all'interno della storia. Un conflitto che poi si può risolvere in qualche modo. Non è semplice, però provate. Questa è una foto pazzesca. Non tanto la qualità della foto, perché, avete, lei è un po' sfocata, perché sono foto rapide fatte a distanza, ma perché io non ho mai visto due cani portare insieme lo stesso asse. E quindi da quell'immagine in cui si separavano, al gioco che facevano e a questa in cui portavano insieme lo stesso asse, è nata questa storia di conflitto tra questi due cani che giocano insieme e poi risolvono il loro problema. Vedete come fanno? Poi qui litigano perché qualcuno si è appropriato, uno dei due si è appropriato di quest'asse. Sembra che litigano, stavano giocando, ma non importa. Nella storia fotografica diventa un litigio, anche perché è così che l'ho descritto poi attraverso il racconto di uno dei due. Finché poi si parlano, quindi si mettono d'accordo, e poi sono lì con la loro padrona. E questo era il luogo dove io ho incontrato questi due cani. E questa è la padrona dei due cani, una ragazza che ho incontrato lì, poi abbiamo fatto due chiacchiere e gli ho mandato questo lavoro. Questo è un ebook. Dunque, un ebook fotografico che racconta questa storia. Quindi non è una raccolta di fotografie, è proprio una storia basata su fotografie. E come vi dicevo, questa storia si basa su fotografie casuali. Adesso, come fate voi a raccontare una storia analoga senza avere una struttura, un modello a disposizione? Niente problemi, nella mia ormai arcinote, grandissima magnanimità, ecco voi che avete a disposizione questo modello per foto, ops, qua vedete, modello per foto, storytelling, album, K, questo è Keynote. Ma la buona notizia è che adesso io, prima di incominciare il corso qui, io vi posso caricare anche la versione in PowerPoint. Va bene, siete contenti? Così avete tutto, anche chi... Grazie. Eh, grazie, grazie, non basta mica quel grazie, ragazzo. Eh, lo so. Grazie, uno se la cava quel grazie. Siamo contentissimi, ecco, capimelo. Dunque, dunque, adesso ve la carico subito. Ok, dov'è che è? Eccolo qua. Keynote, foto, storytelling, modello PowerPoint, eccolo qua. Modello PowerPoint. Quindi avete adesso, avete anche il modello, insomma, PowerPoint, con una differenza tra i due, che il modello di Keynote è un vero modello, cioè nel senso che, come adesso vi mostro, no, questo è PowerPoint, va bene, apriamo anche quello per Keynote. Allora, guardate la differenza tra i due. Questo è il modello, questo in primo piano è il modello per Keynote. Il modello per Keynote funziona come i modelli che abbiamo visto per Keynote in un paio di incontri fa, se vi ricordate, cioè dal tasto più, qui, io posso aggiungere le fotografie che sono veramente di modelli. Ok? Però nel passaggio da Keynote a PowerPoint, cioè trasformando questo in esporta come PowerPoint, dall'iPad della stessa identica operazione, che cosa succede? Che il PowerPoint perde l'allineamento di tutti le foto modello, quindi queste non sono più da utilizzare. Non potete più fare tap sul tasto più di PowerPoint, però li ho messi tutti qua all'interno. E quindi voi che cosa farete per utilizzare il PowerPoint? Per utilizzare il PowerPoint ne farete una copia, prima di tutto. Una copia che vi rimanga intatta. E poi da quella copia farete un altro duplicato, che poi distribuite agli allievi per un determinato lavoro, lo farete voi. Cioè ogni volta farete il duplicato. Nel caso in cui non vi serva questa foto, voi la toglierete chiaramente, ma adesso vi spiego come fare. Allora, vediamo come è organizzato questo modello. Uso il Mac, ma tanto non c'è niente da dire. È uguale perché sull'iPad avete anche qui la finestra di navigazione, no? E poi avete il tasto più, solo che questo tasto più è posto qua in basso. Se ve lo ricordate, l'iPad è posto qua in basso. Quindi, allora, prima di tutto... 15% no, va bene, 75, 50, no. 15, così. Allora, adatta a diapositiva. Perfetto, ecco qua, cercavo questo. Adatta a diapositiva. Va bene, qui scriverete i vostri riferimenti agli studenti, citate la fonte, di dove sono prese anche le foto e tutto il resto. Allora, titolo, qui sono tutti elementi che potete modificare o eliminare. E qui, naturalmente, inserite il titolo, nome, cognome, autore, eccetera. Poi, qui è bene aggiungere l'autore perché cosa state creando? State creando un racconto, un racconto fotografico. Quindi, deve essere realizzato bene, nel senso che c'è un autore dietro questo racconto e deve essere chiaro il fatto che ci sia un autore. Poi, vediamo che cosa si può aggiungere. Per esempio, la presentazione. Qui avete già un modello di presentazione, è già a posto, non dovete cambiare niente, perché i caratteri sono studiati, la disposizione, il bianco intorno, eccetera. affinché sia leggibile. Quindi, fate in modo che la presentazione stia qui dentro. Tanto è un racconto fotografico, non c'è niente da raccontare testualmente. Quindi, qui dovete solo presentare quello che avete fatto. Quindi, ho incontrato i due labrador casualmente, e quindi abbiamo operato in questo modo, eccetera, eccetera. Poi, vediamo che cosa c'è ancora di interessante. I titoli del capitolo possono essere su fondo nero o su fondo bianco. Non cambiate il colore di fondo, perché non ha nessun senso nell'immagine fotografica inserire una fotografia con lo fondo verde, con lo fondo rosso. Non ha nessun senso. Quindi, o decidete di svolgere il vostro racconto seguendo un filone bianco, oppure nero, però dovete stare all'interno. All'inizio potrebbe essere bianco il racconto, e poi via via procede con. Allora, qui avete che cosa? Qui avete tre immagini, che siccome non sono molto ampie queste immagini, quindi l'attenzione non viene attirata tutta dall'immagine, ma anche dal testo. Questo potrebbe essere chiaramente, ma ad esempio, non so, l'illustrazione di una mappa, del luogo dove vi trovate, due elementi che caratterizzano l'ambiente, che danno delle informazioni al lettore, ma non siamo ancora nella storia, per esempio. Potremmo essere, per esempio, in un incipit. Sì, questo certo, perché magari svolgete una sorta di premessa alla storia, e allora fornite qualche indicazione. Poi qui abbiamo, anche qui, un altro tipo di incipit differente, anziché essere organizzato su tre, viene organizzato su due. Decidete voi quello che vi interessa di più. Poi, qui abbiamo ancora un'altra variante. Riguarda sempre l'inizio della storia. Poi avete i protagonisti. Qui ne ho messi cinque, potrebbero essere sei, allora spostate e ne aggiungete uno. Potrebbero essere due, quindi togliete gli altri e le disporrete al centro. Oppure potrebbero essere organizzati anche così i protagonisti, con due parole di presentazione per ognuno. I protagonisti possono essere anche degli oggetti. Nulla vi vieta di creare la storia fotografica sul vostro vaso da fiori, sul vostro coltello da cucina, su una castagna che è trovata in un bosco. Poi, qui invece, proprio ci addentriamo nella storia, nella storia vera e propria. Tutte le immagini che trovate sono fotografie mie, quindi le potete usare senza problemi. Qui non avete un testo da inserire, proprio un'immagine. Quindi a volte le immagini parlano da sole, non c'è bisogno di aggiungere alcun testo. Qui invece avete un'immagine con un testo da aggiungere. Vedete? Lorem ipsum, Lorem ipsum. Non cambiate la grandezza, l'ampiezza dei fonti, cioè non trasformate questa righe in due righe o in tre righe, in quattro righe. Non riducete l'immagine per farsi da dentro il testo, perché non è più una storia fotografica. Nella storia fotografica parla la fotografia. Quindi, però, siccome la fotografia non parla da sola, perché una fotografia, ricordatevi questo, una fotografia non racconta niente. Niente racconta. In questa fotografia vediamo un tizio che io ho fotografato al Louvre di Parigi, ma voi non sapete che è il Louvre di Parigi, non sapete che è in un museo, non sapete chi è questo tizio, sapete solo che guarda il cellulare. Ma non sapete manco se il suo cellulare è spento, perché lui potrebbe guardare un graffio che ha fatto perché cinque minuti prima gli è caduto. Quindi nessuno può raccontare una storia, perché questa foto non racconta una storia, cioè la foto non racconta una storia, ma voi sì, voi potete raccontare una storia su questa foto. È chiaro, l'immagine non racconta mai niente, specialmente la fotografia. Siete voi che raccontate qualche cosa partendo da una fotografia. Quindi dovete solo dare due indicazioni. Se voi qui scrivete ero preoccupato e in attesa, tre puntini di sospensione, avete detto tutto. Avete aiutato il lettore a decifrare queste immagini. Perché? Perché siete voi a costruire la storia, a dire al lettore che cosa deve vedere in queste immagini. Altrimenti lui vede solo un tizio che mangia un cellulare. È molto importante questo. Però non dovete raccontare al posto del lettore, perché altrimenti scrivete un romanzo e non usate le foto. In un romanzo a parlare è il testo. In una storia fotografica a parlare sono le foto. Guardiamo quest'altra soluzione. Anche quest'altra soluzione è molto elementare da un punto di vista testuale, però abbiamo due immagini. Perché abbiamo due immagini e quando si usano due immagini? Allora, guardate, anzi, ascoltate, prestate attenzione. Una immagine non racconta. Io ho un tizio che legge un libro. Lo vedete tutti? È un tizio seduto a un tavolino. Se guardate bene, il titolo di questo libro è in lingua... Boh, che lingua è? Dovrebbe essere francese, perché ero a Parigi. Esatto, L'Otremont. Legge L'Otremont. Pensate un po'. Quindi, se guardate bene, sapete che c'è un tizio che legge l'Otremont. Siccome ci sono due tizi dietro a un tavolino con un caffè, sembrerebbe un bar. Sembrerebbe, perché, voglio dire, non si sa con certezza, ma sembrerebbe un bar. Un bar francese, un bar dove si parla, ma potrebbe essere anche uno straniero in Italia che legge un libro francese. A Torino ce ne sono tanti francesi che girano e che leggono, perché sanno leggere anche i francesi. Ma attenzione, attenzione, attenzione. Nel momento in cui io inserisco un'altra immagine, a fianco di questa, voi non potete non collegare le due immagini e quindi porvi una serie di considerazioni. Ma quest'uomo, che oltretutto come direzione sembra rivolgersi da questa parte, entrerà in questo bar? C'è un legame? Ecco che la storia comincia a essere creata non più da voi, ma dalle immagini. La storia si crea dalle immagini quando abbiamo almeno due fotografie in successione. successione. Ma quando ne abbiamo una sola noi non abbiamo una storia. Abbiamo un tizio che sembra Nightmore, va bene, uno può dire può essere la storia di Nightmore, ma finisce lì, perché non hai la minima idea di quello che sta succedendo. Invece con due immagini ecco che tu hai una successione, cioè poni il lettore di fronte a un tema. Qual è il collegamento con queste due immagini? Ma voi direte ma il lettore si pone sempre questo problema? Sì, il lettore se lo pone sempre. Tutte le volte che ci sono due fotografie in successione, accostate, ecco che il lettore cerca un legame. Perché? Perché nella nostra intelligenza umana, appunto, nel nostro apparato cognitivo, tutto deve avere un senso. Non ammettiamo cose che non abbiano un senso, che non siano spiegabili in qualche modo. e quindi automaticamente il nostro cervello cerca una correlazione anche fra immagini molto diverse. Lo sapevate questo? Ha un nome questa cosa. Se volete segnarvelo, si chiama, lo andate a cercare, lo studiate, si chiama Principio di Kulesov, con la K, Kulesov, che era un cineasta russo, il quale ha stabilito con certezza il meccanismo che sta alla base della decodificazione di due immagini affiancate o in successione. È il principio di Kulesov. Il principio di Kulesov è il principio che io ho utilizzato per creare la storia dei due Labrador. Perché mettendo insieme anche casualmente le immagini, tu hai delle correlazioni, ti vengono in mente delle relazioni e a partire da lì scrivi una storia. Quindi vedete che rispetto al modo istituzionale che vi hanno insegnato, voi applicate magari con i vostri studenti, di costruzione di una storia che parte dalla sceneggiatura, che parte dalla scrittura, della trama, quindi parte da un'elaborazione mentale di tipo simbolico, potete invece rovesciare il procedimento completamente, partire liberamente dalle immagini. Ah, vi do un'indicazione incredibile, ma questo è proprio una perla, perché se voi andate nel mio canale YouTube, che tra l'altro ha a disposizione di tutti con centinaia di webinar, lezioni, eccetera, vi metto, allora vi aggiungo un link del mio canale qua, link al canale di Alberto Piandi YouTube. Perfetto, la vediamo. Allora, se voi visitate il mio canale, voi trovate subito un film, un filmato della durata di 20 minuti. Questo filmato si intitola Hamilton Bowl ed è una storia ci sono un filmato vi faccio vedere solo l'inizio, perché voi abbiate un'idea proprio dei primi secondi. Mi chiamo Emult Bowl Il mio nome vi dirà poco Anche quando sono stato in vita ha detto poco a molte persone Emult Bowl non è quasi mai esistito Al suo posto ci sono stati Franz Landau Stephen Hilton Raul Muller ci sono stati anche John Gardner e perfino un Roger Castri Il 17 giugno del 1953 quando a Berlino Est i carri armati russi erano rispinti a colpi di bastone io avevo 15 anni e stavo dalla parte dei russi Nel 45 la mia famiglia venne esterminata dai nazisti e io che ero un bambino che non sapeva né leggere né scrivere venni salvato dall'armata rossa per questo il 17 giugno del 1953 mi ritrovai dalla loro parte contro il mio popolo ci sono voluti tanti anni perché capissi come stavano le cose basta poi ve lo vedete allora questo perché vi parlo di questo filmato perché questo filmato applica intiramente il principio di Kulesow cioè sono partito in un viaggio attraverso l'Europa la Germania qualche paese del nord con una telecamera professionale e con l'intento di ricavare immagini casuali per costruire una storia ed è nata la storia di Hamlet Bull agente dei servizi segreti della Stasi e proprio applicando esattamente il principio di Kulesow poi le immagini le ho degradate ovviamente perché dovevano sembrare immagini di archivio e quindi poi vi vedrete questa storia ma questa storia è proprio l'emblema del principio di Kulesow all'epoca del digitale perché oggi col digitale chiunque può realizzare un film un prodotto un prodotto partendo veramente dall'applicazione di questo principio va bene adesso torniamo a noi ok ve lo siete segnato sì cosa stiamo guardando qua quindi vi ho parlato dei due del significato di questo vediamo altri altri interessanti che possono essere qui ecco per esempio potresti avere delle immagini di effetto di questo genere potresti aver scattato delle fotografie pazzesche queste sono tutte fotografie che ho scattato a Parigi durante un viaggio e qui siamo nei pressi della Torre Eiffel queste sono queste cose che sembrano fantascientifiche sono in realtà i proiettori che sparano sulla Torre Eiffel le loro luci allora presentati in questo modo voi potreste avere bisogno magari di una spiegazione un po' più lunga in questo caso oppure potreste anche fare a meno di qualsiasi spiegazione per poi continuare la storia raccontando altre cose però in questo caso ecco a me serviva perché volevo anche mascherare un po' questa parte e quindi concentrare l'attenzione solo su questo effetto dunque bisogna ragionare su come trattare le immagini raccontare con le immagini non è un io non so come fare veramente a volte a far capire proprio bene questo concetto perché oggi viviamo in un mondo di immagini che è una cosa incredibile straordinaria e pazzesca ne siamo sommersi e questo ci impedisce di ragionare di ragionare sulla fotografia e sull'immagine stessa ora se volete fare una buona cosa per voi stessi e con i vostri studenti voi dovete prendervi il tempo necessario vedo che le immagini vengono trattate così rapidamente si fa una ricerca si guarda si prendono si usano no noi dobbiamo prenderci il tempo di esaminarle guardarle ragionare su che cosa puntare sul tipo di inquadratura dove va l'occhio che cosa vogliamo raccontare ci va tempo per fare questo e non è tempo buttato via perché è un tempo educativo un tempo che ci educa ecco questo interessante perché noi possiamo estrapolare un dettaglio da qualsiasi cosa quindi userete questa struttura per inserire la fotografia di qualsiasi elemento e poi un suo particolare qui ovviamente con una descrizione questo è un carattere forse più didattico che narrativo però l'ho inserito perché proprio potrebbe essere utile qui ecco che vi ricordate che avevate due qui siamo in Toscana invece vi ricordate che avevate due vi avevo fatto vedere da qualche parte una rappresentazione con due fotografie così con la storia che continua ah sì l'avevamo visto nella storia dei Labrador proprio poi può essere interessante anche una composizione di questo genere va bene questo giudicherete voi oppure ecco l'immagine rotonda come si fa a creare con Keynote da da Mac voi cercate immagine maschera con forma ovale quindi ricordatevelo formato immagine maschera con forma ovale quindi ovale eccolo qua che mascheriamo ovale l'ovale è questo qui piccolino quindi poi la dovete ridurre chiaramente l'interno e qui con ovale voi sistemate la maschera dell'immagine poi vediamo delle altre caratteristiche che possono essere utili va bene altra forma altra forma triangolare qui abbiamo la stessa fotografia che è inserita due volte perché la direzione è data da questa curva o iperbole e naturalmente la fine quando una storia finisce bisogna dirlo la storia finisce quindi una bella conclusione e poi eventualmente anche ringraziamenti dopo la fine della storia ringraziamenti a Tizio Caio e Sembroni a Tizio Caio e Sembroni